Dai, dai, visionisti di Instagram non mi hanno oscurato la diretta, quindi buonasera a tutte e buonasera a tutti. Mi trovo qui a voler fare due chiacchiere con me stesso e con voi, così magari le parole che cerco di tirar fuori con gli amici, con le amiche, con parenti, riescono ad avere un senso e un confronto con voi, quindi ciao a tutte, ciao a tutti. Volevo ringraziare Lidia di Instagram Italia che da settimane mi rimbalza costantemente rispondendomi che c'è un errore, c'è un problema tecnico e che quindi non è una cosa voluta, lo shadowbinding a cui sono sottoposto da diversi mesi da parte di Instagram, che ovviamente è in mano a Zuckerberg, che c'è anche Facebook e altri social di cui ignora adesso il nome. Se dici qualcosa contro Israele, se dici qualcosa contro i sionisti e a favore della Palestina, vieni ovviamente segnalato da tutti quei sorci e quei coniglietti bianco-azzurri con la stella o sionisti nostrani, e quindi l'algoritmo o Zuckerberg o chi per lui decide che sei scomodo e quindi ti shadowbannano, vuol dire ti fanno esistere ma non ti fanno arrivare a tutti. Quindi sono passato un mese fa al mio profilo fotografico e anche lì oggi ho avuto due blocchi da parte di Instagram che minaccia di chiudermi il profilo perché dico delle cose sulla Palestina e contro Israele. Sono ritornato qui sul mio profilo originario per sfidare la sorte e vedere se arriva qualcuno, se questa diretta verrà salvata, se riuscite a dire qualcosa di fastidioso. E quindi ecco, siete ben accetti tutti quanti, potete fare domande. Adesso sto ancora preparando il discorso e ho delle cose da leggere e poi dopo leggerò le domande. Quindi risparmiatemi le domande per dopo così magari se non intervengono amiche e amici che conosco e che possono avallare o confutare le cose che dico e avere un confronto, quindi mi piacerebbe anche un contraddittorio, leggerò le vostre domande. E la chiacchierata di oggi, se Instagram mi insegna bene, oltre alla mezz'ora non viene salvata. Quindi dopo una mezz'ora io stopperò questa diretta per eventualmente continuare nel caso in cui non fossimo arrivati addirittura d'arrivo con la prima diretta. Quindi ciao a tutte, ciao a tutti, di nuovo. Allora, ho raccolto grazie anche a voi, quindi tutte le cose che so sono grazie alle persone che ho incontrato, incontro e incontrerò nella mia vita. Quindi per condivisione di comune intento ci passiamo anche i link di blog o testate interessanti che vengono costantemente ignorate dal panorama giornalistico nostrano. E quindi ecco, ho selezionato dei siti, delle frasi che mi hanno colpito di questi articoli e li volevo condividere con voi, quindi carta e penna oppure con il cellulare della vostra compagna, del vostro compagno, della vostra amica, vi segnate quello che vi dico se ve lo perdete. Allora, tutto questo ovviamente è in materia Black Lives Matter, eccetera, eccetera, ma è molto più ampio. Il problema ci saranno ovviamente delle proposte che saranno provocatorie, ma se non si provoca non si inserisce il germe del fastidio che poi smuove le coscienze e porta ovviamente a stuzzicare la mente e a trovare delle soluzioni. Quindi ecco, se non vieni mangio 10 salsicce, va bene. Allora, non ho mandato di leggere questa esercice perché a parte le mani e i cuori era una cosa più lunga. Quindi vado, Giacobin Italia, non so se lo conoscete, è un sito molto interessante, ha scritto un articolo clamoroso, stupendo, uno dei più belli in cui asfalta Roberto Saviano che è un rancontafrottore sopravvalutato e ovviamente inserito nel sistema del gota dei giornalisti che valgono. E vabbè, ci fermiamo qui perché ci sarebbero delle giornaliste e dei giornalisti che in altri paesi non avrebbero aperto neanche l'ultima pagina dei Necrologi e vado con la lettura. Quindi l'articolo si chiama Roberto Saviano e l'ignoranza bianca. È un articolo devastante, stupendo, scritto benissimo, adesso vi dico anche da chi. Si chiama Franco Palazzi ed è un dottorando in filosofia all'Università di Essex e autore di Tempo Presente. È un po' lungo, vado veloce, ce ne sono diversi dei passi che vorrei leggervi. Vado. Questo è quello che scrive quel genio di Saviano su Repubblica. Ovviamente in mano al buon vecchio Molinari che mi blocca su Twitter. Ciao, stupendo. Allora, zionista. No, giusto per ricordarvi, per chi non lo sapesse. Gruppo poi dopo, Jedi in mano agli agnelli. Adesso detiene tutta quanta l'editoria e la comunicazione. Quindi è come se vivessimo in un regime in cui le comunicazioni, le informazioni, eccetera, eccetera, sono tutte viste e censite da questi personaggi di dubbia morale. E scrive la seguente cosa. Il sito si chiama GiacobinItalia, ragazzi, però dai, eh. Allora, c'è anche un'altra riflessione da fare. Difficile da capire per chi guarda dall'Italia. Te credo. Per una parte dei manifestanti quello che sta accadendo è già non violento, perché la violenza è intesa contro le persone, mentre in questo caso è rivolta verso le cose. In alcuni casi cose ritenute responsabili della sproporzione fra bianche e minoranze. Io ovviamente non bestemmia ogni fine frase perché non sarei una persona moderata. Sono teorie che servono a giustificare, ad assolvere. Secondo le voci più radicali ed estremiste, il saccheggio in usa è bianco. Il bianco ha saccheggiato terre, ha saccheggiato lavori e ha continuato a saccheggiare vendendo titoli tossici ai neri nel 2008, negando mutui e provocando altra povertà. Nel momento in cui questo accade in un mondo in cui moltissimi stanno vivendo in ghetti persino più schifosi di quelli degli anni 70. Minacciare la proprietà significa minacciare la proprietà di chi sta confermando questo mondo. Ma questa è filosofia. Ok, io vi ho preso questo pezzo ma è costellato di pezzi, volta stomaco di Saviano, questo fantastico articolo. E c'è quindi adesso l'analisi di questa persona che è illuminata e soprattutto sa scrivere. Da persona che insegna filosofia, ovviamente con il quale ha scritto l'articolo, in un'università, mi viene da replicare che questa non è di certo filosofia. E' al più storia ed evidenza sociologicamente fondata. Prendiamo un esempio citato dallo stesso Saviano. La città di Ferguson, in Missouri, dove Michael Brown è stato brutalmente ucciso nel 2014. A Ferguson ha dimostrato, Jackie Wang, in un libro importante, le continue vessazioni poliziesche della popolazione di colore avevano tra l'altro l'esplicito obiettivo di rimpinguare le casse cittadine messe in scacco dalla crisi economica tramite la proliferazione di multe e sanzioni combinate per le violazioni amministrative più insignificanti o persino inesistenti. Nel 2013 più del 20% del bilancio municipale proveniva da questo tipo di attività. L'utilizzo del termine looting, saccheggio, per descrivere queste pratiche razziste non è opera di qualche esaltato, ma dell'intera comunità accademica che le studia, composta non certo solo da filosofi o amanti dei voli pindarici. Né si tratta di fenomeni isolati, come riportano Michael Dawson e Megan Ming Francis, attivi rispettivamente in quei covi di teppisti che sono l'Università di Chicago e Harvard. Durante la crisi dei mutui subprime, le persone nere furono fatte oggetto di pratiche razziste per le quali nel 2011 sono stati condannati alcuni dei più grandi istituti di credito statunitensi. In quello che era un vero e proprio esercizio di saccheggio finanziario, la popolazione di colore era ingannevolmente spinta verso i rischiosi mutui subprime, anche quando aveva tutte le garanzie necessarie all'ottenimento di prestiti a tasso fisso, con il risultato che più di 240.000 afroamericani persero la propria casa allo scoppio della bolla immobiliare. Questo è, ovviamente poi va avanti, io questo pezzo lo continuerei a leggere, ma se avete poi preso appunti ve lo continuate a leggere perché è un po' lunghetto, per arrivare poi dopo alla chiusa, che dice non so se queste righe arriveranno mai a Saviano, ma nel caso remoto che lo facciano vorrei invitarlo, in conclusione, a farsi una domanda. Avrebbe mai scritto senza documentarsi appropriatamente un articolo di pari lunghezza sul crimine organizzato? Io non credo. Qui ovviamente il buon Franco Palazzi è stato fin troppo gentile perché ne sa veramente poco anche in materia di crimine organizzato, il buon vecchio Saviano che non è mai sceso a Napoli, non è mai sceso per le strade, non è mai sceso a Scampia, ha demonizzato una città, ci ha fatto i sordi e bla bla bla. Quindi ecco, forza Napoli, forza Scampia, forza tutti quanti i ragazzi che invece di essere additati come dei criminali dovrebbero essere sostenuti dallo Stato con dei percorsi oltre che scolastici anche di tutela emotiva eccetera 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 ma adesso andiamo in straparlare. Allora, vado. Questo si chiama invece gulpblog.com, gulpblog.com e l'articolo si chiama Mappa Fisica, scritto da Valentina Ladoaddio. Di questo ho preso un breve straccio che fa più o meno così. Questo non è vero, cosa? Non è vero. Le nostre energie, se vi state riferendo ovviamente a Saviano, potete anche parlare con i parenti di Peppino Impastato che ancora stanno aspettando delle scuse. Comunque la puntata su Saviano e quanto ne sa sulla mafia, che poi ovviamente non denuncia Israele che è la mafia mondiale, quindi il crimine organizzato per eccellenza, quindi i sionisti e le lobby, è molto paradossale visto che non si parla mai di quelli ma si parlano delle favolette. Dicevo, la nostra Valentina Ladoaddio dice questo qui. Le nostre energie sono da convogliare affinché il sistema neoliberista e capitalista venga smantellato del tutto. Poi da lì, addomino, crollerà il consumismo, il materialismo e quindi l'inquinamento, virgola, il razzismo e il maschilismo, fra parentesi, che vedono la terra, l'essere umano e la donna, solo come materia, questo è molto importante. Crolleranno le disuguaglianze, le paure e le guerre. Cambiare il pensiero per cambiare l'azione. Quindi un altro punto di vista di una bravissima scrittrice, nonché amica, ma che in queste sei righe riesce a centrare secondo me il problema che è che bisogna cambiare il pensiero e di conseguenza tutte le azioni a cascata saranno efficaci. Vado avanti velocissimo sullo scroll di notizie che mi hanno colpito di siti e di articoli con lavoroculturale.org. Questo articolo si chiama Questioni di Privilegio e lo scrive Angelica Pesarini. Pardon. Era una pesca. È più facile solidarizzare, virgola, mostrare empatia, versare lacrime, concedere il beneficio del dubbio ad un uomo nero ammazzato a migliaia di chilometri piuttosto che a un uomo nero in Italia. Punto. Perché i corpi, come quelli di Sumaila Saco, i Didiene, San Modu o Diop Mor, solo per citarne alcuni, sono razzializzati dallo sguardo bianco egemonico come alcuni fra i tanti neri richiedenti asilo, migranti arrivati dall'Africa o clandestini, quelli che forse si possono tollerare all'uscita di un supermercato mentre dichiadano una moneta ma che guarderesti con sospetto e diffidenza se fossero dietro di te in fila al perdivo del banco, matto. Grazie Angelica. Pesarini, altro pezzo della Madonna, questo si chiama questione di privilegio e il sito è lavoroculturale.org. Ultimavoce.it invece con Giulio Cavalli scrive questo. Sono tutte cose... non ti chiedi più alla cucina, non me ne frega un cazzo della cucina se ci sono problemi più seri, quindi evitate di chiedermi delle cose della cucina perché la cucina è niente se c'è il malumore ovunque, come fai a mangiare bene se fuori il mondo è la merda? Quindi continuiamo. Ultimavoce.it con Giulio Cavalli dice la seguente cosa, per partecipare al movimento americano c'è un imperativo categorico che bisognerebbe cominciare a rispettare, guardare al nostro razzismo, rendere materia di studio il colonialismo italiano, imparare una volta per tutte che la moderna segregazione è figlia di una storia che ha sempre manipolato le differenze a vantaggio di pochi. Per partecipare al movimento americano, oltre che condividere questo slogan, sarebbe il caso di cominciare a interrogarsi sul privilegio di essere bianco in un paese in cui il bassissimo dibattito politico ha trasformato l'antirazzismo in una posa, in un tic. Capolavoro anche questo di Giulio Cavalli per Ultima Voce. Passiamo adesso a contropiano.org.org con l'articolo di Giacomo Marchetti che intervista Cornel West. L'America è un esperimento sociale fallito. Ve lo consiglio, questo è un altro articolone bomba in cui c'è un'intervista stupenda a questo stupendo nero dalla capoccia immensa che dice delle cose che vi ho selezionato. Superma 87, su cavà, dai per favore, vai a giocare con le bambole. Allora, l'America è un esperimento sociale fallito. Ciò a cui stiamo assistendo al momento è una ribellione, non è una rivoluzione. Ma è una cosa bellissima vedere la quantità di proteste e le norme portate e impiezza di tutti i colori, tutti i sessi, tutti gli orientamenti sessuali, tutte le etnie e tutte le identità religiose negli Stati Uniti. C'è una meravigliosa nuova militanza morale in termini di proteste pacifiche, ma anche un'intensità di questa giorno dopo giorno. C'è organizzazione locale in atto e un incontro di gruppi che in passato difficilmente si sarebbero parlati fra loro, ma che ora stanno lottando insieme, camminando insieme per le strade e andando in prigione insieme. Questo della prigione insieme è un punto fondamentale che vorrei riprendere dopo, ma non so se mi ricorderò. Altro pezzo sempre dello stesso articolo, ma soprattutto penso che dobbiamo assicurarci di preservare la nostra attenzione morale, spirituale, di qualità, fondamentale sulla verità e la giustizia, di tenere traccia del saccheggio legalizzato, l'avidità di Wall Street, l'omicidio legalizzato, la polizia, l'omicidio legalizzato all'estero. È lì che deve essere il nostro obiettivo, perché con tutta questa energia ribelle deve essere canalizzata attraverso organizzazioni radicate nella ricerca della verità e della giustizia. Dice delle parole sacrosante Cornel West che sono tutta la violenza che c'è in America è la stessa che ha esportato in tutto il mondo, insomma hanno cagato il cazzo in tutto il mondo esportando neoliberismo, capitalismo, veramente la peggio roba, oltre a grandissimi rappresentanti di ogni tipo di arte, quelli li salviamo e tante altre persone, ma il modello americano è veramente da colone vergognoso, quindi ecco, Cornel West scrive delle sacrosante parole, se vi siete perse, l'articolo si chiama L'America è un esperimento sociale fallito di contropiano d'accordo. Non so se vi la faccio a salvarla, ora vedremo, mancano dieci minuti alla mezz'ora, dopo nel caso la riprendiamo. Questa invece è nenanews.it, quindi a nenanews.it, Rania Hamad è la scrittrice, la giornalista, l'attivista che ha scritto questo pezzo che si chiama I Have a Dream. Occupare e prendere con la violenza una terra già abitata è quello che hanno fatto gli europei con i nativi americani nel nuovo mondo, libro fenomenale che vi consiglio del Zucconi, che purtroppo è diventato negli anni, non so se rincoglionendosi, un sionista sfegatato e che prima patteggiava per i deboli, ha scritto un capolavoro di libro che si chiama Gli spiriti non dimenticano, ve lo dovete leggere, è un capolavoro, se capite, se leggete quello e leggete tutte le ingiustizie di tutto il mondo. E niente, quindi Gli spiriti non dimenticano la storia di Cavallopazzo e di Lakota Sioux, capolavoro di libro, dovete leggerlo. Allora, Dostavo, I Have a Dream, ok. Riparto. Occupare e prendere con la violenza una terra già abitata è quello che hanno fatto gli europei con i nativi americani nel nuovo mondo. La storia degli Stati Uniti e di Israele riflette la stessa immagine nello specchio, così come anche quella delle loro vittime, l'afroamericano, che poi alla fine è americano, perché dopo 400 anni è americano, e il palestinese, che invece era il padrone di casa e vabbè, soprassediamo. E se gli oppressori sono uniti dai loro valori di dominio e supremazia, è anche giunto il momento di unire il movimento di Black Lives Matter con quello di Palestinian Lives Matter, e di tutti gli altri oppressi del mondo. Ci sono kurdi, tibetani, gli indipendentisti del Kashmir, ci sono migliaia di devastanti storie che ignoriamo di confine e non per un pezzo di terra che apparteneva a tribù nativi che invece si sono visti espropriare tutto. Per portare avanti i loro valori, quelli dell'eguaglianza, libertà e giustizia, quindi valori come eguaglianza, libertà e giustizia sono delle parole di cui abbiamo abusato, veramente le abbiamo stuprate, nominandole senza senso, ma che dovrebbero riacquisire il loro valore originario. Qui, aspetta, 10 minuti ce l'abbiamo, allora, prima di interrompere questa e provare a salvarla. Questa è invece Arianna Ciccone, Valeggia Blu, l'articolo si chiama I bianchi dovrebbero smettere di dire ai neri come protestare. Prima di giudicare le proteste, sì, anche quelle sulle forme violente, e dare lezioni ai neri su come dovrebbero manifestare la loro indignazione, su come dovrebbero combattere per avere giustizia, noi bianchi, con le nostre vite al sicuro, dovremmo pensarci bene e forse fare la scelta più rispottosa possibile, tacere e metterci in ascolto. Leggere fra me e il mondo. È un tanesi coat, è ta ne h i s i coates, tra me e il mondo, oppure white fragility, why it's so hard for white people to talk about racism, della sociologa Robin Diangelo. Guardare il tredicesimo emendamento, cioè su Netflix, guardatevelo, una denuncia senza via di scampo della criminalizzazione degli afroamericani. Mettere a disposizione il proprio privilegio come scudo per proteggere gli oppressi. Ecco, questo è un altro pezzo molto interessante, paligio a blu, che tra l'altro supporto e che vi consiglio di supportare perché è una delle poche realtà che raccontano, fanno del giornalismo, fanno del giornalismo, mentre dalle altre parti ci stanno veramente, manco, cioè il vernaculiere sta qua, cioè tipo la vetta, cioè il grande vernaculiere. Allora, poi vi volevo, prima di chiudere questa prima parte diretta, prima che crolli tutto quanto, invece dire la mia, ma non nel dibattito che poi eventualmente proveremo a fare con qualcuno che vorrà intervenire con domande scritte o tentativi di diretta. Uno scambio che ho avuto questa mattina, mi sembra, o in fra ieri sera e questa mattina, con Paola Larosa, che è una persona squisita, una delle donne che rispetto di più in assoluto, con cui mi confronto, mi ci scorno, ma che rispetto e per cui ho una devozione massiccia. Io ho scritto questa cosa su Facebook, ok? Dopo le piazze, la protesta deve espandersi a macchia d'olio nelle scuole. Dobbiamo lavorare a livello culturale, sgredolando il sistema da dentro. Bisogna gettare le fondamenta per una nuova società equa, solidale e duratura. Non permettiamo che si fermi tutto a cartelli, slogan e pugni chiusi, ok? Poi dopo ne parliamo di questa cosa. Paola, sotto al post, risponde non solo nelle scuole, bisogna parlare con le bambine e i bambini, con ragazze e ragazzi, bisogna far loro intravedere un'alternativa possibile, anzi bisogna chiederle loro di immaginarla e realizzarla. Bisogna trovare altri luoghi oltre la scuola, tipo biblioteche, centri sociali, la strada, eccetera, eccetera. Io gli ho risposto, perché comunque la ammiro, perché con lei e con altre poche persone, non donne, persone, riesco ad avere un confronto costruttivo, anche quando c'è qualcuno che mi critica in maniera sensata e sono i momenti più belli quelli. Io gli ho risposto, si chiama Paola La Rosa, ho fatto copia e colla, quindi Paola La Rosa. Ho detto scuole, perché ancora esiste l'obbligo. Quindi la ragazzina e la ragazzina sono obbligate ad andare a scuola. Per strada ci saranno sempre meno persone che causano questa cazzo di psicosi del cazzo, con le mascherine, ancora andate in giro con le mascherine in strada, vi fa male, vi fa male. Mettetevele al posto nel chiuso, ma non per strada, sembrate deficienti. In biblioteca ancora c'è veramente troppa poca gente e nei centri sociali ci sono sempre le stesse facce. Magari partendo dalla scuola poi tutto viene a cascata, questo è quello che le ho consigliato. Si è inserita Alice Maggini, un altro contatto che ho su Facebook da grande testa, che dice che la povertà educativa in Italia non è una novità e i numeri sono allarmanti, però tutti si sono sempre girati dall'altra parte. Quello che proprio non si riesce a far capire è che questo dialogo con i ragazzi deve avere radici più lontane e profonde. Tutta la comunità si deve attivare, il bambino di due anni che oggi viene tirato su a tablet ignoranza avrà poche probabilità di essere un adolescente recettivo. Vogliamo avere ragazzi curiosi, attenti ed empatici? Mettiamo le basi da subito. Il fatto che nel nostro paese ci sia disinteresse più totale nell'educazione e nella formazione dovrebbe toglierci il sonno. Invece il problema pare non riguardi nessuno. Tanto sono bambini, sti cazzi io li odio i bambini, tanto c'è la scuola, qualcosa faranno. I semi o li coltivi e le fai germogliare oppure li lasci seccare. Non è difficile da capire. Questo ha scritto non era tra lo scambio con Paola, ma era una cosa che mi andava a dire perché ha scritto tutte sacro sante verità. Io poi dopo ho ricevuto questa mattina da Paola la risposta perché lei ci ha pensato, la conosco, impazzisce. Lei è una donna che vive con il suo compagno che saluto, pazzo totale, a Lampedusa, che si è fatto il culo così e si fa sempre il culo per le persone che noi chiamiamo ultimi, migranti eccetera eccetera, quindi sta qua, proprio è Dio. Mi scrive, le scuole sono il luogo per eccellenza, ma indicare solo le scuole può deresponsabilizzare quanti non hanno alcun modo di accedervi. Ok, questa è una cosa interessante e giusta e io però le ho risposte perché comunque a me medicina cosa, ma a me me puzza al culo. Rispondo, ovviamente sempre con rispetto e giustamente perché l'osservazione era interessante. Le ho detto, la scuola però deve ritornare l'eccellenza. Adesso fa schifo perché non per i professori, non per i ragazzi, ma perché non si investono soldi, si lascia tutto così come se dovesse andare davanti da solo. altrimenti saranno irrealizzabili le giuste osservazioni partendo dal fatto che la famiglia, un nucleo solido con i vecchi al centro del progetto, gli anziani e le anziane, è scomparsa e si può recuperare se i piccoli crescono in una determinata direzione. Una volta gli indiani, perché prima ho citato Zucconi con gli spiriti che non dimenticano o tutte le tribe, le tribù esistenti, avevano il saggio e la saggia al centro della vita del villaggio e noi invece che fanno? Li mettiamo nei casi di cura all'ospizio, poi si è piena di malattie e incorpiamo a regione. I primi colpevoli siamo noi che abbiamo mandato nostro padre e nostra madre all'ospizio invece di tutelarli e tenerli vicino a noi. Questo è un altro mio personalissimo pensiero. Continuo con l'analisi, scusate, mi sto dilungando. E una volta adulti, questi bambini cresciuti appunto con rispetto, con determinati valori, ricominceranno sicuramente come era prima. Al momento i sermoni per le strade ovunque andrebbero benissimo. Io ho proposto anche nei centri commerciali, invece di sti cazzo dei pianoforti negli aeroporti, letture e Paola mi risponde, anche se siamo vecchi e disabituati, dobbiamo riscoprire la fantasia, l'immaginazione, la follia. Parlare in luoghi reali, non solo sui social, mai utilizzati e nemmeno immaginate prima. Questo per dirvi, che mancano tre minuti prima che crolli questa diretta, è che l'ho provocata dicendo, ma scusano, facciamo le manifestazioni in piazza, facciamo tutto come da protocollo, in maniera estremamente ligia, senza dare nessun pretesto a chi ci comanda di dire siete sbagliati, e non cambia mai un cazzo. Allora facciamo una cosa, invece di fare le piazze, andiamo alle Roi Merlin, da Brihofer, Decathlon, Ikea, Media World, andiamo in tutti quei posti di merda, ci mettiamo lì, però non in grossi assembramenti, ci mettiamo ognuno con le proprie conoscenze, ognuno con le proprie possibilità e dedichiamo del tempo alla società, al nostro prossimo, alla nostra prossima. Uno che sa cantare, canta però, canta tematiche, uno che sa leggere, legge dei poeti che gli hanno insegnato qualcosa e l'hanno spinto a conoscere il pianeta, il rispetto per l'uomo, l'antropologia, eccetera, eccetera. Uno che invece ha una dialettica fantastica, si mette col microfono, invece di Gesù esiste, Dio c'è, dice ragazzi, ho scoperto che oggi hanno ammazzato un altro disgraziato in mezzo ai campi, un'altra ragazza che l'hanno costretta a prostituire è stata ammazzata dietro a casa mia, si chiamava Tal Dei Tali, aveva tot anni e è stata ignorata, e le chiavi che si possono utilizzare per fare questa cosa sono molteplici. Ci abbiamo due minuti, provo a chiudere questo concetto, così magari lo ampliamo nella prossima diretta, o se non ne faremo nella prossima, vi lascio questa suggestione. Invece di fare delle dimostrazioni, manifestazioni in piazza, in cui poi alla fine vince l'effimero, l'estetica, perché tutto, anche i giornali strumentalizzano la manifestazione, perché se sei di destra, e sei un coglione, permettetemelo, te vi appizzerà solo, e questo è il massimo dell'apporto che hai portato al tuo paese. Se sei di sinistra o di pensieri filo, anarchici, o che comunque vorresti un mondo migliore, senza violenza, che abbia tutti i valori equi, solidali, eccetera, eccetera, sei la zecca, un valincazzo, un continente, quindi le situazioni che si generano dalle manifestazioni di piazza interessano sempre gli stessi che le seguono, gli attivisti, le persone che frequentano centri sociali, le persone disincantate, disiluse, che hanno bisogno di una guida all'attimo e fassare la foto col pugno chiuso, col cartello Blacklist Matter, e poi ritornano a farsi i cazzi loro, invece di fare questa roba, andiamo con le nostre proprietà, con un subwoofer, con un microfono, con un megafono, e diciamo ciò che andrebbe fatto, ma non io so meglio di voi e sto di sta cosa, alla pari, come nelle pole is greche, il macerlaio, se c'aveva un problema, diceva io c'ho un problema, mi dovete risolvere questo problema, e non delegava con il voto, adesso ci dobbiamo un attimo salutare, e vediamo con la prossima diretta se riusciamo a continuare questo discorso.